Il nostro obiettivo è arrivare ai famosi 500.000, quindi questa è l'attività che stiamo facendo insieme e che credo sia quello che il Paese attende. Non è un caso che siamo qua insieme. Ma le criticità attuali come si superano? Guardi, noi dobbiamo pensare in positivo. Le criticità attuali si superano inviando vaccini e aumentando i centri di vaccinazione. Io non parlo di criticità perché oggi, ieri, la Calabria è allineata sul piano, ha fatto 7.000 vaccinazioni e ieri, a livello nazionale, abbiamo superato le 243.000. Quando considereremo, secondo me, supereremo addirittura i 245.000. Era previsto finora che arrivassero 15.690.000 vaccini, chiudiamo a 14.200.000 che però sopra la stima iniziale di perdite che era 13.500.000, quindi questo è. E dal prossimo mese incrementeremo.